Eccoci, 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 ero preoccupata. Allora, scusatemi, non riuscivo a collegarmi. Ci siamo? Sì, ci siamo. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti, eh. Allora, aspetto che vi collegate anche voi, benvenuti. Ciao, ciao, Gloria. Eccoci, ci siamo. Ho tentato tre volte di andare in diretta, eh. Per fortuna ci siamo. Buonasera a tutti, grazie per essere qui con me in questa nuova diretta, grazie. Allora, abbassiamo un po' le luci, così non mi accecco. Ci siete? Sì, 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 sono un po' a ritardo perché non riuscivo a collegarmi, eh. Allora, iniziamo intanto a... Vediamo se riesco a vedere i vostri commenti, perché... Faccio scorrere un pochino, eh. Ok, ci siamo. Allora, ciao Viviana, ciao. Allora, vediamo la prima persona che riesco a dare un messaggio dagli angeli, anzi, da questi due arcangeli bellissimi. E vediamo un po' di riuscire a fare un pochino più veloce perché sono già in ritardo. Vediamo se riesco... Allora, Maria Assunta, la prima, visto che ti vedo, Maria Assunta... Allora, Maria Assunta, non vedo nessuna... Va bene, lo stesso, saranno gli arcangeli, l'arcangelo Michele e l'arcangelo Gabriele a darti un consiglio, un messaggio speciale, eh. Non male che riesco anche a vedere i vostri nomi. Allora, spero che mi sentiate bene. Dato bene, ok, se mi sentite bene. Maria Assunta, per te, sei la prima a ricevere un messaggio dagli arcangeli. Ok, sì, mi vedete bene, mi sentite bene. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille. Allora, Maria Assunta... Eccolo qua. Il primo. Wow, c'è il successo per te, ce l'hai fatta, ti dice l'arcangelo Michele, congratulazioni e vai avanti, anche se ci sono state delle piccole delusioni, vai avanti perché hai un progetto da portare avanti con creatività e mettici tutte le emozioni possibili riguardo a questo progetto, eh. Sì, wow, c'hai anche una guida divina che ti sta aiutando proprio dal cielo, ti arrivano delle risposte importanti alle tue preghiere. Quindi se hai chiesto qualcosa riguardo a questo progetto, vedrai che avrai successo, quindi stai tranquilla, eh. Allora, andiamo a vedere chi c'è ancora. Giovanna di... Di noia. Ok, Giovanna di noia. Allora, Giovanna di noia. Esca a lento, ecco, vabbè, ma è meglio che non tocco perché sennò mi sfogono i commenti. Giovanna di noia, vediamo per te cosa arriva dall'arcangelo Michele, dall'arcangelo Gabriele. Questi due arcangeli meravigliosi che danno veramente sempre tanti consigli speciali. Giovanna di noia, per te. Eccolo qua, il primo, dall'arcangelo Michele che ti dice che devi essere un pochino più gentile con te stessa, avere anche un po' di compassione verso te stessa. E lascia andare i sensi di colpa, ti dice l'arcangelo Michele. Ci sono dei sogni che potrebbero darti dei segnali o delle informazioni molto importanti. Quindi, prima di andare a dormire, chiede all'arcangelo Michele di ricordarti questi sogni e cercare di, magari, di annotarli. In questo momento tu hai bisogno di essere motivata, ti dice l'arcangelo Gabriele, quindi trovare entusiasmo riguardo a un progetto che hai da portare avanti. Quindi cerca di essere un pochino più tirati su perché hai comunque l'aiuto di questi due arcangeli meravigliosi, soprattutto l'arcangelo Gabriele che ti aiuta a spronarti, ti aiuta anche a liberarti dai blocchi. Allora, gloria Trevisan, gloria. Allora, gloria, vediamo cosa arriva per te. Da chi arriva il messaggio? Gloria. Li vedo scorrere veloce. Allora, gloria Trevisan, per te, il messaggio. Vediamo, da chi arriva? È l'arcangelo Michele. Ti dice, devi decidere di essere felice adesso, quindi non aspettare che succeda chissà che cosa, che ti arrivano chissà quale felicità che ti sta invece attendendo proprio in questo momento. Quindi goditi la vita giorno per giorno, momento per momento e vedi proprio di sentirti felice anche nelle piccole cose. Quindi l'arcangelo Michele ti dà questo consiglio, ti dice apri il tuo cuore alla felicità, ma subito, in questo momento. Adesso, vediamo cosa arriva ancora. Hai anche la possibilità di aiutare i bambini, mi dice l'arcangelo Gabriele, che tu hai questo dono speciale. Quindi guidare, aiutare, potrebbero essere giovani, ma potrebbero essere anche i bambini. Questo è uno degli scopi più importanti della tua vita. Allora, eh sì, qua l'arcangelo Michele mi dice che è importante che tu devi dare la fiducia a una persona, non so se sta parlando di te stessa o di un'altra persona. Se è di un'altra persona, ti dice che questa persona merita la tua fiducia, quindi dagliela tranquillamente. Giussi Lonardo. Allora Giussi Lonardo, anche per te, vediamo cosa arriva. State da quelli che arrivano per tutti questi messaggi, eh. Giussi Lonardo. ecco qua un lavoro di guarigione energetica mi dice che potresti essere anche tu ad avere questo dono questa energia che scorre nelle tue mani ma se invece tu non hai queste capacità che magari ancora non le hai sviluppate e hai bisogno invece di ricevere queste guarigioni energetiche ti dice l'arcangio michele chiedi a una persona che magari veramente è integra e che sa fare queste cose con con amore c'è un professionista qualcuno che vuole aiutarti a sostenerti riguardo un progetto creativo però è come se tu devi stare un pochino distante riguardo a questa a questa situazione ci pensa l'arcangelo michele per lasciare andare qualsiasi paura se c'è una paura ci sono drammi quindi saranno sarà l'arcangelo michele ad aiutarti anche a trovare la pace in questa situazione quindi l'aiuto del professionista ma anche l'aiuto dell'arcangelo michele giusilatina allora giusilatina vediamo cosa arriva anche per te se sarà l'arcangelo michele o l'arcangelo gabriele a donarti questi messaggi meravigliosi e giusilatina vediamo arriva allora giusilatina ciao cattia ciao allora giusilatina anche per te allora tanto mi dice che tu stai già impegnata riguardo un progetto importante e che era già un'idea meravigliosa che in questo momento la stai trasformando in realtà e quindi l'arcangelo gabriele ti dice portalo avanti questo progetto e invece l'arcangelo michele ti consiglia proprio di prendere carta e penna di metterti a scrivere potrebbe essere anche i tuoi le tue emozioni in questo momento oppure anche quello che ti arriva attraverso il tuo sentire c'è Antonella Verzi ciao grazie per essere qui con me allora sì ti stavo dicendo proprio ascolta la saggezza che hai nel tuo cuore sarà Dio comunque ad aiutarti a mettere per iscritto quello che senti quello che provi ma potrebbero potrebbero arrivarti anche delle belle informazioni ma è come se tu hai bisogno proprio di essere motivata perché in questo momento ti senti proprio giù di tono quindi come se non hai prospettive quindi hai bisogno di essere aiutata a sbloccarti a eliminare questi blocchi e soprattutto prendere in mano questo progetto e portarlo avanti e guarda che sarai veramente riconosciuta se fai questo e quindi sarai apprezzata questo progetto andrà avanti veramente bene quindi metticela tutta Sara Nava Sara Nava Sara Nava scusatemi ma io come come alzo gli occhi e vedo i vostri nomi allora me li scrivo così almeno evitiamo di di ripetere il messaggio per le persone che hanno già ricevuto Sara Nava per te questo messaggio un messaggio speciale vediamo cosa arriva Sara Nava eccolo qua scappano anche le carte è arrivato il momento di di eliminare di eliminare le tossine dal cibo dal corpo e dalla mente ti dice l'arcangelo Gabriele quindi detox una bella purizia purificazione ancora uno ci saranno buone notizie per te e tutte le preghiere che tu hai chiesto attraverso le preghiere vedrai che verranno esaurite esaurite sì mi dice l'arcangelo Michele che è importante che che tu visualizzi che immagini già questa e diciamo quello che tu vuoi ottenere è come se tu la vela la devi vedere proprio già davanti ai tuoi occhi come se fosse già realizzata quindi chiedi se hai bisogno dell'aiuto alcangelo Michele per fare in modo che proprio vedi proprio tutto già realizzato e quindi questo questa buona notizia che arriva deve essere già deve essere già in azione si sente un po piano mi dicono eppure al massimo eh allora si sente un po piano speriamo che mi sentiate adesso andiamo avanti barbara tac non so che il cognomeno barbara per te barbara tac che non ho fatto in tempo a leggere mamma mia quanti siete barbara tac per te vediamo cosa arriva eccolo qui ci siamo eh la nascita di una nuova nuova vita potrebbe essere un progetto importante una buona notizia e eh comunque come se c'è già dentro di te questa questa nascita di vita eh devi avere più fiducia in te stessa ti dicevo che angelo Michele eh perché hai bisogno in questo momento di essere di tirar fuori il coraggio di tirar fuori la forza lo stato d'animo e di metterti proprio eh diciamo affidarti affidarti proprio all'aiuto divino ma soprattutto all'aiuto dell'arcangelo Michele hai una guida interiore veramente affidabile tieni presente che qualsiasi cosa ti arriva da quello che senti dentro di te ascoltando vedrai che se le metti in pratica succederanno veramente delle cose bellissime ascolta quindi la tua guida interiore giovane giovane alessandra poggiani ciao giovanna anche per te un messaggio per te giovane giovane vediamo se arriva dall'arcangelo Michele o Gabriele eccolo qua dall'arcangelo Michele ti dice perdona te stessa per te stessa non hai fatto niente di male potrebbe essere anche magari che avresti voluto fare qualcosa che non è andata come avresti voluto quindi se hai da perdonare te stessa ricordati che va bene così qualsiasi cosa che non è andata come avresti voluto l'arcangelo Michele ti dice va bene così perdonati devi prenderti cura però di te stessa perché ci sono è come se tu hai bisogno proprio di dedicare del tempo prezioso a te stessa perché hai bisogno di tirar fuori questa energia di caricarti eh sì mi dice che tu hai bisogno sempre di essere perfetta in qualsiasi situazione di sistemare tutto quindi perfezionismo e deve essere tutto perfetto però a volte dipende anche magari che tu fai troppa fai troppo caso diciamo alle critiche quindi è come se tu ci tieni al giudizio degli altri eh però lascia andare ti dice l'arcangelo Gabriele non non deve essere così cioè non deve essere così ferma severa con te stessa eh moni blu e rai moni vediamo moni blu e moni blu e rai nome in particolare moni per te vediamo cosa vediamo cosa arriva moni ma ehm ma ehm sì qua mi dice anche che sarebbe il caso di pregare riguardo a questa decisione perché è ehm come se tu hai bisogno proprio dell'aiuto di Dio dell'arcangelo Michele per ehm diciamo per fare in modo che questa decisione sia presa in modo in modo perfetto che vada a buon fine sì perché è una decisione diciamo collegata a una situazione un pochino pesante quindi l'arcangelo Michele ti può aiutare a fare in modo che le tue preghiere vengano ascoltate quindi fidati di quello che hai bisogno chiedi e vedrai che questa situazione è negativa questa azione pesante andrà a sarà lasciata andare allora vediamo chi c'è ancora Roberta Rizza Roberta Rizza per te vediamo cosa arriva Roberta Rizza Roberta Rizza allora Roberta Rizza per te allora Roberta Rizza allora Roberta Rizza eccolo qua allora la cosa che la prima cosa che ti arriva per te è quello di fidarti di quello che senti di quello che provi di quello che vuoi portare avanti eh quindi l'aiuto dell'arcangelo Michele ti servirà proprio per guidarti e ehm e agire in base a quello che stai sentendo in questo momento eh perché hai bisogno di capire se queste emozioni se quello che tu provi sono veramente emozioni collegate all'amore mi dice che tu sarai riconosciuto e che avrai la possibilità di essere apprezzato quindi considerazione apprezzamento ma ricordati di mettere sempre la gratitudine in ogni tua azione eh perché con la gratitudine si ottiene sempre di più e tutto quello che che tu riguarda a cosa sei grato praticamente ritorna sempre moltiplicato eh Rosi Marconi mi ricordo se io ti amo ah si sente bene mi dici va bene allora vediamo se intanto scorrono Cristina niente Veronica Chia Veronica Chia non so leggere Veronica intanto 05 08 87 05 08 87 Veronica per te un messaggio vediamo da chi arriva potrebbe essere o l'Arcangelo Michele o Gabriele andiamo a vedere Veronica allora Veronica allora Veronica per te eccoci qua eccoci qua sì ti consiglia la Cangelo Michele di prendere distanze da una situazione in cui ti trovi in questo momento eh però ricordati di lasciare andare la paura e di lasciare andare i drammi perché questa situazione si deve comunque sistemare affinché tu trovi la pace hai bisogno proprio di trovare la pace dentro di te vediamo cosa arriva ancora c'è uno scopo della tua vita che tu hai da portare avanti quindi chiedi soprattutto all'Arcangelo Michele quale è questo scopo della tua vita se ne sei già consapevole di aiutarti a diciamo ad agire con chiarezza e a portare avanti questo tuo percorso in piena realizzazione professionale anche per te ti dice la Cangelo Michele se ci sono state delle situazioni in cui tu magari hai avuto dei sensi di colpa eh oppure non lo so lasciare andare magari eh i rancori qua mi dice perdonati non hai fatto niente di male questo è un messaggio proprio per te ti consiglio anche di mettere per iscritto le tue priorità eh eh Francesca Francesca tro non so se tro troia non so perché ho fatto in tempo a leggere solo troppo allora Francesca per te eh purtroppo mi scorrono velocemente eh i messaggi mi scorrono a una velocità incredibile quindi Francesca per te vediamo cosa arriva eccola qua ci pensa Dio ti dice l'Arcangelo Michele sì per lasciare andare questa situazione affidati proprio a Dio e è alla saggezza divina all'amore all'amore infinito devi avere fede fiducia riguardo a risolvere questa situazione e lascia che sia Dio a fare tutto il resto avrai anche la possibilità di essere aiutata da un professionista e ehm soprattutto per realizzare un progetto importante un progetto creativo eh alla fine questo progetto andrà a buon fine quindi sarai riconosciuta e porterai avanti questo progetto in modo eccellente Anna Frezza Anna Frezza Anna Frezza Anna Frezza Anna Frezza vediamo cosa arriva per te Anna Frezza che consigli ti arrivano? o dall'arcangelo Michele o dall'arcangelo Gabriele ecco qua chi siamo anche per te ti consiglio all'arcangelo Michele di sì di essere gentile con te stessa di provare empatia verso te stessa compassione ed empatia perché in questo momento tu hai bisogno anche di essere aiutata a ehm a trovare entusiasmo a trovare eh questa questa voglia proprio di fare di ricominciare a ehm ad agire eh perché qua ti vedo proprio come se non hai proprio questi pensieri puliti quindi lascia che sia l'arcangelo Gabriele ad aiutarti a sbloccare tutto questo e invece l'arcangelo Michele ti dice che tu e i tuoi cari siete al sicuro quindi se sei preoccupata per qualsiasi cosa stai tranquilla perché sarà Dio l'arcangelo Michele a ehm a vegliare sui tuoi cari quindi ricordati di pregare nel momento che preghi chiedi in modo chiaro di quali di quale persona hanno bisogno dell'aiuto di Dio e dell'arcangelo Michele tre soldi franco tre soldi franco tre soldi franco andiamo a vedere che cosa arriva per te ok ci stiamo eccolo qua primo messaggio anche per te dall'arcangelo Michele ti dice importante che tu sia gentile con te stesso e ehm trovare compassione ed empatia nei tuoi confronti eh lascia andare i sensi di colpa se ci sono questi sensi di colpa e ehm e fare in modo che tutto questo ti porti a trovare la pace interiore ci saranno nuovi inizi per te ti dice l'arcangelo Michele e opportunità nuove opportunità quindi sostegno aiuto però è importante che tu risani il passato eh quindi questi cambiamenti richiedono però di ehm di porre attenzione anche a lasciare andare questo passato e eh sì qua mi dice che tu sei molto portato ad aiutare i bambini insegnare non so qua mi dice proprio questo è un qualcosa che veramente sai fare quindi l'arcangelo Gabriele ti dice appartengono proprio alla tua vocazione superiore eh sei innocenti a volte ti senti veramente come un cucciolo hai bisogno proprio di coccole di di essere ehm diciamo coccolato eh Cristina Gabriella Gabriella Cristina Gabriella ok Cristina Gabriella eccoci qua andiamo a vedere che cosa arriva anche per te un consiglio potrebbe essere dall'arcangelo Michele o Gabriele ehm di essere Cristina ok c'è un esito favorevole ti dice l'arcangelo Michele quindi qualsiasi cosa sarà sistemata, la situazione si metterà proprio in armonia quindi un esito favorevole e ricordati che sarai ispirata e ci sarà un'idea meravigliosa che ti arriva proprio dal divino e ti dice l'Arcangio Gabriele è importante che ti metti lì e ti impegni a fondo per realizzarla perché è un'idea veramente speciale metti proprio al primo posto i pensieri in positivo perché vedrai che i risultati saranno veramente positivi quindi ricordati di sostituire i pensieri negativi in quelli positivi Rosi Vesti, Rosi Vesti non ti ho ancora, sì, allora Rosi Vesti per te 170875 Rosi Vesti un messaggio anche per te dall'Arcangio Michele e Gabriele Rosi Vesti Rosi Vesti ok sì, c'è da fare tanta pratica riguardo delle capacità che tu stai per acquisire quindi devi trovare questa sicurezza e fiducia in te stessa qua mi dice però te stai tranquilla perché ci sarà successo, ce la farai e ci potrebbe essere invece anche l'aiuto non so se tu sei una guaritrice energetica se usi queste guarigioni tipo Reiki, non so se invece non lo fai, qua ti consiglio l'Arcangio Michele di farti aiutare proprio da persone che magari sono veramente in grado di fare queste di inviarti energia di guarigione energetica e che siano persone veramente integre nel fare questo Elena Carnati Elena Carnati, vediamo cosa arriva anche per te Elena Carnati chiedi l'aiuto dall'Arcangelo Michele per mettere a posto una situazione in cui ti trovi in questo momento quindi chiedi proprio il suo aiuto e ricordati anche di ascoltare la tua guida interiore perché ti dà veramente delle informazioni con la saggezza quindi ascoltala e porta avanti quello che è quello che veramente ti suggerisce lasciando andare l'ego perché l'ego non ti serve in questo caso quindi ascoltare solamente attraverso la saggezza interiore e ricordati di mettere al primo posto questi pensieri positivi perché i pensieri creano quindi se vuoi creare qualcosa di bello devi veramente sostituire i pensieri e tenere proprio belli chiari questi pensieri positivi allora vediamo se rispiamo Federica Federica adesso non ho fatto in tempo Federica vediamo anche per te Federica Federica cosa hai? purtroppo scorrono velocemente vediamo Federica 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 allora se sei preoccupata per qualcuno della famiglia o anche per te stessa ricordati di chiedere l'aiuto dal Cangelo Michele affinché specifica proprio di cosa hai bisogno di quale persona ha bisogno di questo aiuto importante e vedrai che ti arriva subito sì perché c'è una situazione un pochino pesante non so se in famiglia o se sei te stessa che la stai se stai vivendo un attimino in una situazione così quindi per lasciarla andare è proprio hai proprio bisogno dell'aiuto dell'Arcangelo Michele però ricordati che questa situazione sarà risolta tranquillamente qua vedo un bimbo non so se c'entra qualcosa un bambino però questa è la situazione sarà risolta perché l'Arcangelo Michele ti darà tutto il suo aiuto il suo appoggio Roberta Marras vediamo Roberta allora Roberta Marras vediamo che cosa arriva anche per te quali consigli Roberta Marras ok ci siamo Roberta Marras eccolo qua apri il tuo cuore all'amore ti consiglia l'Arcangelo Gabriele perché hai bisogno proprio di metterci tutto l'amore possibile riguardo a quello che tu vuoi creare quindi hai bisogno di fare in modo che queste energie si elevino attraverso l'amore ci sarà un nuovo progetto per te non so se sei già in atto perché qua mi dice proprio è un'idea che tu stai trasformando in realtà quindi mettici tutto l'amore possibile perché qua non ci saranno più ostacoli c'è l'Arcangelo Gabriele c'è l'Arcangelo Gabriele che ti aiuterà a eliminare tutti gli ostacoli e lascia andare la paura stai tranquilla l'importante è che metti proprio la concentrazione riguardo all'amore Sara Tara Sara Tara allora Sara Tara per te vediamo se arriva dall'Arcangelo Gabriele un messaggio dall'Arcangelo Michele Sara Tara vediamo eccolo qua eccoci la Vergine Maria ti dice che sta sta facendo di tutto per aiutarti a portare avanti lo scopo della tua vita vediamo cosa arriva ancora vai avanti senza paura ti dice l'Arcangelo Michele perché sarà al tuo fianco ti porterà proprio verso questo cammino questa strada cioè proprio per poter agire e andare verso lo scopo della tua vita quindi l'esistenza che ti porterà proprio a capire con chiarezza e portare avanti con sicurezza e coraggio ti dicono proprio credi in ciò che crei e questa creatività ricordati che è stata proprio sei stata aiutata da Dio quindi si manifesta attraverso di te bellissimo messaggio Barbara Galli allora Barbara Galli un messaggio anche per te poi vedo di darvi anzi subito dopo Barbara andiamo a dare un messaggio a tutte le persone che sono in questo momento ad ascoltare a seguire questa diretta allora Barbara Galli cosa arriva cosa arriva Barbara Galli eccolo qua esprimi la tua verità interiore ti dice l'Arcangelo Gabriele perché ci devi mettere dei sentimenti veramente belli sentimenti veri pensieri profondi affinché questa verità interiore possa far sì che possa nascere quello che tu hai già dentro di te quindi ci sarà una buona notizia riguardo proprio a questo progetto stimolante che sta già crescendo dentro di te apri il tuo cuore all'amore quindi vedrai che ci sarà proprio come se tu ti sentirai più energica e sarai anche più più entusiasta quindi mettici tutto l'amore possibile tutta la passione tutto i pensieri veri i pensieri profondi allora per tutte le persone che in questo momento stanno seguendo la diretta vediamo pensate magari a una domanda mentalmente non scrivetela mentalmente vediamo cosa arriva ascoltate quello che sentite pensate solamente una domanda vediamo cosa arriva per tutti voi per tutti voi che state seguendo la diretta credete ciò che volete creare quindi credi in ciò che crei questo è importante qua vedo anche un gattino non so se chi ha spesso vabbè domani ogni tanto mi si blocca la lingua quindi qua mi dice proprio che le persone creative manifesteranno questa creatività attraverso proprio il potere divino quindi è un potere veramente grande manifestazione della creatività sì ci sono molte persone che si sentono in colpa per qualcosa che magari non lo so è stato detto è stato fatto quindi liberatevi da questo senso di colpa quindi perdonate te stesso non hai fatto niente di male ti dice l'arcangelo Gabriele lasciare andare la rabbia lasciare andare le paure ma ringraziare sempre soprattutto l'arcangelo Michele perché porti armonia e pace sì ci sono persone che sono proprio portate a sviluppare qualcosa di importante e vedo che saranno apprezzate proprio collegate a questa creatività apprezzamento e considerazione saranno veramente entusiaste riguardo a questi progetti ai risultati che si vogliono ottenere un'altra carta wow molte persone invece sono molto sensibili e l'arcangelo Michele dice proprio che questa sensibilità porterà ad essere a ispirarvi quindi la musa ispiratrice che creerà attraverso questa sensibilità wow adesso andiamo avanti vediamo che allora chi c'è Alice Cirincio Alice Cirincio allora Alice per te vediamo se arriva dall'arcangelo Michele o dall'arcangelo Gabriele Alice Cirincio eccolo qua ok resta focalizzata sui tuoi obiettivi ti consiglia l'arcangelo Michele quindi chiedi proprio l'aiuto per liberarti da ogni dubbio da ogni paura e per avere anche la sicurezza e il coraggio di realizzare attraverso questi obiettivi i tuoi sogni sì qua mi dice che tu sei un artista e che è importante che condividi la tua arte quindi permetti agli altri di di conoscere il tuo lavoro creativo e ascolta solo l'amore che dice l'arcangelo Gabriele lascia andare le paure lascia andare le distrazioni perché tu hai una grande dimissione e quindi devi anche ascoltare l'amore che ti sta suggerendo tutto quello che tu hai bisogno di sapere allora Elisabetta De Maio allora Elisabetta De Maio vediamo cosa arriva anche per te dall'arcangelo Michele o dall'arcangelo Gabriele il consiglio Elisabetta De Maio eccolo qua credi e fidati ti dice l'arcangelo Michele è importante che tu tieni proprio lasci andare la paura lasci andare tutto quello che è proprio la fiducia fede e fiducia queste sono le cose che tu devi proprio tenere presente hai bisogno proprio di essere aiutata qua mi dice l'arcangelo Michele che sta posizionando in ogni angolo della tua casa un angelo affinché tu possa chiedere il loro aiuto in qualsiasi situazione in cui ti trovi potrebbe essere anche l'aiuto economico magari per pagare l'affitto per pagare un mutuo o magari anche per per qualsiasi cosa quindi chiedi il loro aiuto perché sono lì apposta per te un'altra wow prosperità in arrivo per te da questi bellissimi cherubini che portano abbondanza proprio collegati alle attuazioni positive quando tu tieni presente che la fede e la fiducia sono quelle cose più importanti per poter ricevere vedrai che ci sarà anche l'aiuto di un professionista per te analisa stef analisa allora analisa vediamo cosa arriva analisa stef non sono riuscita a leggere del tutto perché se tocco poi non vorrei fare disastri analisa stef vediamo cosa arriva eccolo ispirazione caspita ci sarà un'idea bellissima che ti arriva dal divino quindi impegnati a fondo per realizzarla dice l'arcangio Gabriele e prenditi cura di te stessa prenditi dedicati dei momenti per te per per stare anche un po' rilassata per goderti un attimino questi momenti che ti servono proprio per ritrovare l'energia quindi metti un pochino tranquilla sei sulla strada giusta ti dice l'arcangelo Michele io ti sto prendendo per mano e ti sto portando proprio verso quella strada da percorrere quindi bellissimo Morghitta Moll Morghitta non riesco a leggere in modo perfetto i vostri cognomi però spero che riuscite a capire di chi sto parlando ok Morghitta per te messaggio dall'arcangelo Michele eccolo qua ci siamo anche per te il consiglio dell'arcangelo Gabriele invece è quello di di mettere per iscritto le priorità di dedicarti del tempo prezioso per te stessa per cercare anche di capire quali sono in questo momento le priorità quelle più importanti mettiti per iscritto e è come se tu stai aspettando che succeda qualcosa perché ti senti proprio spenta dentro non sei felice non ti senti felice l'arcangelo Michele ti dice cerca di essere felice in questo momento adesso hai bisogno di essere felice stai ad ascoltare quali sono i tuoi bisogni e mettili per iscritto vedrai che la felicità la felicità arriva perché ti sentirai anche un pochino più motivata e l'arcangelo Gabriele ti aiuterà proprio a rimuovere a lasciare andare tutte le difficoltà e tutte le paure quindi saranno eliminate Maria Tisana allora Maria Tisana vediamo cosa arriva Maria Tisana per te Maria Tisana ah sono stiamo quasi per terminare la diretta Maria Tisana per te eccolo qui messaggio dall'arcangelo Gabriele ti dice di usare i mezzi di informazione per farti conoscere potrebbe essere facebook qualsiasi mezzo per poterti farti conoscere da più persone possibili e poi c'è anche una buona notizia per te collegata a qualcosa che tu hai chiesto e quindi sarà veramente la porterai avanti con creatività però devi crederci credi in tutto quello che vuoi creare e manifestare perché attraverso di te tutto si può realizzare allora allora adesso vi visto che sono c'ho ancora pochissimi minuti per tutti voi da queste carte meravigliose di Gaetano Vivo di Francesco Italia le carte dell'amore puro un messaggio per tutti voi vediamo cosa arriva vediamo per tutte le persone che hanno avuto la pazienza di seguirmi in questa diretta un messaggio da queste bellissime carte dell'amore puro l'arcangelo Raffaele ti dice si strumento si strumento del bene bellissima questa questa carta andiamo a vedere se arriva ancora qualcosa da questi arcangeli meravigliosi l'arcangelo ieri quando cerchi Dio guarda dentro di te Michele ti dice si accogliente guardate che belle queste carte se avete bisogno di fare un regalo un po' particolare speciale ve le consiglio andate a chiedere con le mail come si possono ricevere queste carte allora vediamo cosa arriva ancora l'arcangelo Samuel lasciati guidare l'arcangelo dell'amore un'altra Uriel si compassionevole ti dice l'arcangelo Uriel e sempre l'arcangelo Uriel ti dice si luminoso wow che belle l'ultima eccolo qua gli angeli custodi devi essere paziente ecco gli angeli custodi cosa ti dicono queste carte sono meravigliose andate a vedere come si fa per poterle anche regalare per Natale anche per per voi stessi quindi il mio tempo è scaduto grazie 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 a tutti quanti grazie a Gaetano grazie a Antonella Virzi che ti vedo che sei ancora che mi stai aiutando grazie a tutte le amministratrici che mi aiutano sempre a portare avanti questa diretta e da sola proprio non riuscirei a farcela quindi un abbraccio grande 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 e vi auguro tanta tanta felicità e tanto amore un bacio a tutti quanti un bacio ciao a tutti